eccolo qua pippo ce l'ho fatta tanto non va un cazzo quella barca sbagliavo anche mi sembrava una mono perché va forte come una mona non avevo considerato non vedo un cazzo pippo dove sono le barche un po' mamma mia come son bravo a riprendere è un mito mi specchio le mie rughe nel display quindi non te ne faccio più riprese pippo non si dice quella parola di mauro a me non so oggi la tua più stazionale come è più bravo batteria che non ne faccia no ma qui c'è il è più dritto un veloci d'oro diglielo batteria un po di non è più bravo non è più bravo sono nuove allora so adesso me le ha date capite ah allora so hai capito perchè è più bravo pensa che io ho comprato di peggio da hobbie king abbiamo preso le 6500 6500 sono? ti fanno cagare il cazzo 65C non vanno vanno meno di questo e soprattutto non durano no ma qui è più bravo si è nettamente più veloce il tio No, no, mi va via, vecchilino, ma hai le batterie che uno stimolo oppure hai il motore che... hai sempre di esergiare anche il motore, quindi c'è più bello, una batteria è capocca, l'altro motore esergiare. Se abbiamo inculato entrambi. In velocità è che non devi sottare indietro. L'ultima tiro giù l'asso. L'ultima tiro giù l'asso. Ma deve aprirlo. Vieni, vuoi vivere? L'ultima volta a ritroscavolo più veloce di io. Sì, 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 che è meno risorse. Stai sentato su questa barca? Allora, stai sentato qui. Sono nuove. Eh, sono nuove. Ma spingono di meno, magari. Sono nuove, ma non avrei sentito di spingere. Ma non perché sono difettose, perché magari spingono meno. Durano di più, ma spingono meno. Occhio in contromano! Gianni, hai voglia di finire la tua ripresa, perché sto facendo una merda, perché non ci vedo veramente un cazzo. Dove lo giugno? Qua? In questo? Sì. L'acqua. Sì, sì, vedo. È addirittura molli? Sì. Non va più, sta andando con il mio. ah li facciamo veramente cacare dai che riesci a fare ancora un giro bellissimo grandioso grande pippo grande ale tipo dove che spengo